Come è Melancon dopo una campagna elettorale un po' all'attacco? Forse potreste anche voi appoggiare il governo Bersani per togliere i loro monti? Noi non siamo mai stati pregiudizialmente ostili nei confronti di Bersani e quindi se Bersani finalmente prendesse posizioni chiare di chiusura nei confronti di Monti noi certamente saremmo disponibili a un confronto per cambiare l'Italia. Questo è un incontro internazionale per quanto riguarda la situazione in Mali posto che l'IDV ha più volte votato le missioni all'estero come vi porrete? Su questo non abbiamo una posizione molto chiara di politica internazionale siamo contrarie a qualsiasi forma di partecipazione a interventi militari vogliamo restituire piena espansione all'articolo 11 della Costituzione siamo contro la guerra, siamo per la pace. Crozzale è simpatico dottore? Assolutamente sì. Crozzale è simpatico dottore? Crozzale è simpatico dottore? Crozzale è simpatico dottore? Crozzale è simpatico dottore? Crozzale è simpatico dottore?